Allora, non abbiamo deciso noi, ma ce l'ha proposto di venire al festival, dicevo. Ma la nostra manager, Rispetta Sgarbi, ha detto ma perché questa canzone non si prova? Ma io ho detto io non ho mai scritto canzoni per Sanremo, non penso di saperle scrivere. Però dopo Moreno ha insistito, è arrivato Davide Toffolo, ha detto anche lui, sì facciamo, Mauro Ferrara ha detto è il mio sogno della mia vita, e vabbè, ci abbiamo provato e siamo finiti qua. La mia reazione è stata quando mi ha chiamato Amadeu, gli ho detto ma no, veramente è impossibile, io non so scrivere le canzoni per Sanremo, gli ho detto sì, e ho detto sì, anche Davide ha detto sì. Mauro ha detto no, ha detto sì, sì, due volte, avevo capito male, ha detto sì, sì, due volte. La canzone si chiama Bianca, Luce, Nera, è il contrario del contrario, è una canzone che si ribalta, che si rovescia, è il bianco e il nero, ma come anche le carte tagliate a metà, sono due volte rovesciate, è tutto un gioco del rovesciamento della vita, delle cose, e noi siamo infatti rovesciati, come avete, Mauro non sarebbe così quando si mette dritto la mattina, è rovesciato. Moreno è dritto, mi metto lui è dritto. Dal palco dell'Altra ci aspettiamo che non crolli, almeno che rimanga lì dove è, lo troviamo che, insomma, che nel frattempo, perché lui entrerà dall'alto, si farà calare con una fune, non si spezzi la fune, e soprattutto quando si spezzi la fune, non ci sia sotto Mauro che viene scacciato da Toffolo, mentre Moreno lo guarda, insomma, speriamo che non sia, che vado sia tutto più semplice, ecco. Grazie a tutti.